Amo, butta la bottiglietta di plastico Un secondo vado in bagno mi sta esplodendo la viscica Ma dov'è la bottiglia? Già l'ho buttata io E perché? Perché tu te ne sei andato Sì, un secondo in bagno, io fa un potevo aspettare Si sporca La bottiglia di plastica Vabbè, non fa niente, l'ho buttata io Sì, ok, ma potevi aspettare mezzo secondo, no? Io che sono la parte lesa non mi sto lamentando e ti stai lamentando tu Ah vai, Teresa, ma noi siamo oggi e buonale Non è successo niente Vabbè Amo, dov'è il cacciavite? Nel mobiletto in corridoio Perfetto, eccolo qui L'ho stretto malissimo Ma dov'è il cacciavite? Ma l'avevo messo qua? Ma che ferifici? Ma che cos'è? Un modello Udini? Ma cosa cerchi? Il cacciavite l'ho usato due secondi fa, l'ho poggiato qui L'ho posato al suo posto Ma per quale motivo? Ma tu perché lasci le cose per casa e non le usi? Ma lo stavo usando, l'ho poggiato un attimo Eh, ma io che ne so Vabbè, lo riprendo Ma dove è il suo cacciavite? Nel mobile, dietro di te Ma perché sposti le cose? Ma che ti cambia? Che cambia che poi non lo so Ah, lo sto posando nel suo mobile Amo, ma dov'è il mobile? L'ho spostato Ma perché? Non mi piaceva come stava lì Ma che cosa aveva che non andava? Secondo me quell'angolo non lo risaltava Ma perché chi l'ha fatto botticelli il suo mobile? Vabbè, l'ho voluto spostare E dove l'hai messo? Nell'ingresso, ma cosa ti interessa poi? Eccomi Togliti le scarpe perché il bambino gattona Sì, sì Ah, le sto togliendo E il pane dov'è? Ah, l'ho scordato in macchina E valla a prendere Ci sto andà Ma dove sono le scarpe? Nella scarpiera Ma le ho tolte adesso Sì, ma è quello il posto delle scarpe Ma è un atto Ma poi com'è fatto? Com'è? Sì? Aspetta Amo, mi fai paura Quello non è il posto suo Ho capito, me l'ho appoggiati un attimo Anzi, è quello non è neanche il tuo posto per scrivere Tu hai lo studio Non ho capito Questa mi fa paura Aiutami